Ue ragazzi, benvenuti nella mod Viteras World. In questo episodio abbiamo l'incarico di testare sul campo di battaglia un team. Un team di mercenari, che poi queste persone sono i nostri amici di Forte Zancudo. Non giocheremo noi personalmente, ma giocheremo nei panni di questo team. E poi a fine missione si saprà il verdetto finale, quindi se faranno parte delle forze speciali con Trevor. Oppure se diventeranno degli agenti di polizia, quindi vediamo un po' come vanno. Come vedete siamo nei pressi di Forte Zancudo e lì c'è il capo dell'FBI e il capo di addestramento di Forte Zancudo. Ok ragazzi, dai, iniziamo questa missione perché questa non è una missione di prova. Cioè, non è una missione finta, è una missione vera, quindi ci sono dei criminali che comunque dobbiamo ammazzare. Ok, dai, andiamo da questo e vediamo un po'. Ora dovrebbe spiegarci la missione. Ok, eccolo qui ragazzi. Lui è il capitano, il capo dell'addestramento di Forte Zancudo. E questo è il nostro team che comunque faceva parte del nostro corso. E come sapete Trevor ha finito prima di tutti. E ora ovviamente ragazzi, tocca a loro fare un po' di pratica sul campo di battaglia. Ok, comunque ci sta dicendo che dobbiamo eliminare i nemici, buona fortuna e le solite cose ragazzi. Ok, Trevor è andato via come vedete. E adesso comunque stiamo giocando nei panni del capo di questo team, quindi il capo dei mercenari. Perfetto, amici venite che andiamo subito da questi maledetti criminali. Ok, saliamo. Vediamo un po' cosa c'è da fare ragazzi, perché guardate qui il casino in questa zona. Quindi noi dobbiamo arrivare qui e dobbiamo ammazzarli tutti. Ok. Mi hanno dato un po' di armi, quindi cerchiamo un po' di stare attenti ragazzi, perché non so i criminali che tipo di armi possiedono. Quindi dobbiamo vedere un po'. Ok. Ovviamente il pick up di Forte Zancudo ragazzi, fantastico, guardate qui. Però ovviamente adesso dobbiamo stare attenti, quindi ci dobbiamo concentrare ragazzi. Perché un minimo sbaglio e si muore, lo sapete, quindi non posso perdere la mia squadra. Ok, tanto il tutto lo decide da Trevor. Ecco, perché... Ok, siamo arrivati. Siamo arrivati. Attenzione, loro... Ah, tu sei uno stronzo, lo so. Comunque ragazzi, siamo arrivati. Come vedete, loro stanno lì sopra. Quindi direi di scendere e di iniziare questo massacro. Ok, compagni, scendiamo. Vediamo un po' le armi, abbiamo le granate, un mitra e io direi di iniziare a sparare. Ok, vai amici, vai amici. Andiamo, andiamo, andiamo. Lentamente, ma dobbiamo andare. Vai, 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 vai. Non si sono accorti di noi, invece sì. Ok? Vai, sparate anche voi, sparate anche voi. Ci dobbiamo coprire, ovviamente. Ci dobbiamo coprire. Ok, mettiamoci qui. Perfetto, perfetto. C'è anche quello stronzo che ci sta sparando. Vattene a casa. Ok, questo tipo è morto. Perfetto, ma noi dobbiamo pensare a questi ragazzi. Vediamo un po'. Fatevi vedere. Fatevi vedere. Uno è qui sopra. Uno è qui sopra, ragazzi. Oddio, da dove? Ok, venite, venite, venite. Eccoli. Ok, preso. Andiamo, 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 andiamo. Ok. Di qua, di qua, di qua, di qua, amici, di qua. Ok. Perfetto, ragazzi. Stiamo andando molto bene per il momento. Ok, nemico a terra. Perfetto, venite, 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 venite. Ok, ok. Riparo, a riparo. Ne abbiamo uno lì. Ok, preso. Ci siete, ci siete. Ok, continuate a sparare. Perfetto. Ok. Vai, fatti vedere, maledetto. Fatti vedere, fatti vedere. E' lì, ragazzi, è lì. Non appena spunta, è morto. Devo andare io di persona, dai, ho capito. Vai, 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 vai. Andiamo, 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 andiamo. Ok. Preso in testa. Venite, venite, venite. Ne abbiamo uno giù. Ma, vabbè, questo qui fa parte delle gang. Quindi, ammazziamolo. Ok, perfetto. Dove sono? Eccolo. Vai, vai, vai. Oddio, è vivo. Benissimo, ragazzi, benissimo. Ok. Ne abbiamo uno qui. Ottimo. Nemico a terra. Ne abbiamo uno dietro. Attenti, uno dietro. Ok. Perfetto, preso, ragazzi. L'ultimo, l'ultimo. Ok. Ne stanno arrivando altri, ragazzi. Ne stanno arrivando altri. E' rimasto solo questo, ragazzi. Quindi, gli altri sono stati feriti. Eh, per forza, ragazzi. Sono stati feriti. Ok, andiamo avanti. Vediamo un po' la situazione. L'importante è che uno di questo team, ragazzi, si salva, ecco. Perché comunque questo, diciamo, è una prova. È un test di abilità. Quindi, uno di questi deve salvarsi. E spero comunque di salvarmi io, ragazzi, ecco. Comunque, vieni, 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 vieni. Ok. Lì ci sono altri terroristi, ragazzi. Oddio, sono su quel pick up. Direi di ammazzarli subito, ragazzi. Prima che quell'arma la usano contro di noi. Ok. Ok, preso. Dai! Eh, non riesco, ragazzi. C'è un rinculo pazzesco. Dai, dai, spunta. Vabbè, dovevo venire io? Qual è il problema? Ok, dai. Prendiamo questa macchina. Vediamo un attimo se posso guidarla io. Posso? Vabbè, andiamo. Dai, sali tu, sali tu e spada tutti. Ok, sali, sali, bro, sali. No, ragazzi. Lo abbiamo investito. Lo abbiamo investito. Quindi adesso dovrò fare tutto da solo. Tutto da solo. Oddio, no. Che fail. Abbiamo investito il nostro compagno. Vabbè, facciamo tutto da solo. Qual è il problema? Ma qual è il problema? Ok. Ripariamoci. Vediamo se possiamo... Ok. Vedete che rinculo, ragazzi? Un rinculo enorme a questo fucile. Ed è anche colpa della Redux, ovviamente. Vai, tu vai a terra, però. Ok. Lentamente andiamo. Oddio. Vedete che rinculo? Ok, ok, ragazzi, dai. Mi sa che comunque abbiamo concluso questa missione. Vediamo un po'. È rimasto l'ultimo, ragazzi, che non vedo. Dai, fatti vedere. Eccolo. In testa. No. Ce ne sono altri. Ce ne sono altri. Oddio. Sono rimasto da solo, ragazzi. Da solo contro tutti. Oddio. No. Ok. Fortuna che ho preso quello sulla torretta, ragazzi. Altrimenti per noi era la fine. Dai, muori. Muori. Ok. Perfetto, ragazzi. Perfetto. Come vedete... È la fine adesso. Perché stiamo perdendo la vita. Ok. Andiamo avanti. Dobbiamo continuare ad andare qui. Perfetto. Siamo rimasti da soli, ragazzi. Da soli contro tutti. E non posso neanche salire in questa torretta. Oddio. Dai, fatemi vedere. Fatemi vedere. Ok, ragazzi. Scendiamo qui lentamente. Ovviamente voglio cercare di andare a piedi. Sbaglio, ragazzi. O abbiamo ricaricato il G-Bot antiproiettili? Mmm. Strano. Devo un attimo vedere perché forse fa parte comunque di questa mod. Allora, andiamo avanti. E vediamo un po' dove sono questi maledetti. Ok. Vai, 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 vai. Quanti colpi abbiamo? Oddio. No, qui ce ne sono tanti, ragazzi. Ok, questo lo abbiamo sterminato. Non riesco a vederli. Ok. Perfetto. Perfetto. No, no, ragazzi. Ne sono arrivando troppi. Troppi, troppi, troppi. Ritirata, ritirata, ritirata. Dobbiamo cercare un riparo. Un riparo. Ok. Lui sa già cosa fare, ragazzi. Vedete? No, no. Ne sono troppi. Dai, dai. Riparati, riparati. Oh, perfetto, ragazzi. Oddio, 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 oddio. Ok, ragazzi. Fin qui stiamo andando molto bene. Ne abbiamo uno lì. Vai. Non so se è morto, ma non credo. Dai. Fatemi vedere. Eccolo. Ok, preso. Ah, no. Comunque si leva il giubbotton, ti proiettili, ragazzi. Stavo scherzando. Si leva. No. Ok, vai, 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 vai. Ce la possiamo fare, ragazzi. Ce la possiamo fare. Dai, fatevi vedere. Ok. Ok. Ci siamo, ragazzi. Non so dov'è quell'altro. Spero di non farmi ammazzare dall'ultimo. Ok, eccolo. Perfetto, criminali maledetti. A terra. Vai. Vai, ragazzi. Portiamo a termine questa missione. Vai. Oddio, stiamo andando bene, ragazzi, eh. Stiamo andando molto, molto bene. Guardate le ferite di questo. Quindi direi che si merita un posto nelle forze speciali. Vai, vai. Muori. Ok, cosa dobbiamo eliminare? Mi hanno dato il lanciarazzi, ragazzi. Dobbiamo eliminare l'elicottero. Oh, mio Dio. No. Oddio, ragazzi, no. Ok, ragazzi. Sono ritornato e ho preso cinque munizioni. Vediamo un attimo di buttarlo giù. Oddio, che mira di merda. Dai. Vai. Oddio. Mi ha fatto comparire Franklin. Comunque, missione completata, ragazzi. Missione completata. Oddio, oddio, oddio. Che missioncina sfiziosa. Però non so perché sto con Franklin. Vabbè, forse si sarà buggato il personaggio, ecco. Comunque, ragazzi. Abbiamo portato a termine una grossa missione. Quindi, l'ultimo uomo, e quindi, ragazzi, l'ultimo uomo rimasto, quello che comunque abbiamo guidato noi, è il migliore. Gli altri sono morti, quindi questo qui sicuramente farà parte delle forze speciali. Per forza, ragazzi. Avete visto? Da solo contro tutti. Yes, yes. Vabbè, mi butto con Franklin, intanto, ragazzi, è un personaggio buggato. Ok. Vabbè, fatemi sapere cosa ne pensate di questa missione, ragazzi. Quindi, ora vedo un po' Trevor. Cosa penso? Nel caso, lo mettiamo nel nostro team. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Grazie a tutti